E' stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione l'ex procuratore capo di Trani e Taranto Carlo Maria Capristo e questa la sentenza emessa dal giudice monocratico della sessione penale di potenza Rosario Baglioni. Capristo finì a processo per una vicenda che riguardava un presunto tentativo di induzione verso l'APM Silvia Curione per agevolare tre imprenditori di Bitonto, Giuseppe Cosimo e Ghetano Mancazzo, attraverso il suo autista, poi uscito dal processo con patteggiamento e condanna a due anni. Sull'indagine, partita dalla denuncia della Curione, Antonio Di Maio, che aveva sostituito Capristo e nel frattempo trasferito alla procura di Taranto, aveva chiesto l'archiviazione rigettata dal GIP di Trani. Il fascicolo venne avvocato dall'allora PG di Bari, Anna Maria Tosso, e trasferito a Potenza. La sentenza ha confermato i due capi di accusa, tentata induzione in debita e falso ideologico. Inizialmente la requisitoria del pubblico ministero, Anna Gloria Piccinini, e del procuratore capo, Francesco Curcio, lo scorso 18 ottobre, avevano chiesto al Tribunale la condanna di Capristo a sei anni di reclusione. I tre fratelli imprenditori di Bitonto, coinvolti nell'indagine, sono stati invece condannati a due anni di reclusione ciascuno. Abbiamo sentito ai nostri microfoni il legale di Capristo, l'avvocato Angela Pignatari. Ovviamente le sentenze si rispettano, tuttavia ci sentiamo come difesa di dire che è una sentenza che sarà riformata in appello, perché siamo assolutamente convinti della diversa lettura dei fatti, lettura che non può che portare alla dichiarazione, al proscioglimento, all'assoluzione dell'imputato, che è persona onesta per bene, che certamente non ha commesso i fatti così come sono stati inquadrati dal Tribunale. Faremo quindi appello.